Grazie per questa intervista. Alle mie spalle vedete Fenix, una delle ultime pitture da cui è nato anche il soggetto che si aggiunge al resto della collezione. Sono felice che le mie sculture siano nella magica cornice della terra di mezzo a Moncalieri, vicino Torino, Italia, e che tanti nuovi collezionisti si stiano appassionando alle mie collezioni. Davvero grazie, grazie a tutti. Non dimenticate inoltre che le fate assorbono l'energia del luogo dove vengono custodite. L'emozione è importante esattamente come il luogo. Ricordatelo sempre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.